Sarà di 4 milioni di euro l'investimento per sostenere le strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha approvato l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore no profit. Si tratta di somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale per le politiche della famiglia. L'avviso è rivolto alle associazioni di promozione sociale, alle imprese sociali, incluse alle cooperative sociali, alle associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, agli enti ecclesiastici riconosciuti dotati di personalità giuridica, alle fondazioni, a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l'ente non persegua fini di lucro e a chi ha come finalità lo svolgimento di attività in favore dei minori. Le domande devono essere inviate entro le 13 del novantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana. Con questo importante finanziamento, evidenzia l'assessore della famiglia e delle politiche sociali Nuccia Albano, vogliamo agevolare la realizzazione di progetti di investimento relativi all'adeguamento, alla rifunzionalizzazione e alla ristrutturazione di asili. L'obiettivo della regione è incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia, promuovendo così l'integrazione tra soggetti del terzo settore no profit e amministrazioni locali. La realizzazione nel territorio siciliano di una rete di strutture del privato sociale qualificate, conclude l'assessore, a cui i comuni possono rivolgersi per l'assorbimento delle liste d'attesa, contribuirà a potenziare le misure già messe in atto dalla regione siciliana, finalizzata a migliorare l'equilibrio fra vita lavorativa e privata e a incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.